mi se se ne è parlato più di una volta nodi e la famosa partita sporca e brutta da vincere è finalmente arrivata finalmente siamo riusciti a trovare una soluzione che con la viterbese per un motivo legato al campo e col palermo per me in precisione non eravamo riusciti a a trovare e quindi io per me oggi è la migliore prestazione dei ragazzi perché questa è la prestazione della partita più vicina a quella che è questo girone a quella che è questa categoria non ho mai preso a riferimento le due vittorie con cinque gol perché so che possono dar fastidio che potevano farci del male e quindi oggi era un test di maturità probante e devo dire che i ragazzi l'hanno l'hanno affrontato con la capabilità con la cattiveria con la concentrazione giusta che serve in questa categoria in questo girone e per vincerlo anche con la freddezza no magari nei momenti più importanti devo dire che i ragazzi non siano mai andati in difficoltà nel senso che non si sono non hanno avuto ansia pur capendo che era una partita difficile sono stati bravi a far girare la palla a stancare la francavilla per poi andare a raccogliere nel secondo tempo i frutti approfittando anche magari di qualche spazio in più che loro ci hanno concesso tra le linee cosa che nel primo tempo con loro atteggiamento non riuscivamo diciamola a trovare da domani mattina si pensa al prossimo avversario che sarà il bari da domani mattina si dorme stasera ci vediamo questa questa vittoria importante di signif piena di significati per come è arrivata e contro l'avversario che è arrivata e poi ovviamente ci mettiamo a lavorare in funzione del della partita di bari